Musica All'interno di una giornata di riflessione sugli scambi e contatti tra i popoli e le culture del Mediterraneo Non poteva mancare una piccola analisi di quello che ha rappresentato e rappresentato la comunità albanese all'interno della nostra regione Dicevo che sintetizza per molti aspetti queste storie che ci possono sembrare lontane ma che ci riconducono invece ai giorni d'oggi In cui l'interscambio tra i popoli rappresenta una delle condizioni naturali di un mondo globalizzato In fondo anche nella Calabria dei secoli precedenti questi popoli hanno innestato nel tessuto calabrese nuove tradizioni, nuove esperienze che oggi sono costitutive dell'identità calabrese Quindi da questo punto di vista le minoranze linguistiche storiche della Calabria non rappresentano delle minoranze separate delle comunità altre Ma delle comunità perfettamente integrate che con la loro specificità arricchiscono il tessuto linguistico, culturale e sociale della nostra Calabria Grazie 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 Grazie.